Carmine De Luca è stato molto probabilmente ucciso di sera. Il suo assassino, con cui aveva un appuntamento, stava consumando un dopocena con lo stesso ex imprenditore settantenne napoletano, ucciso con una ventina di coltellate e trovato cadavere una settimana fa, il 28 maggio, nella sua abitazione a Piano Grande di Torricella Sicura. De Luca era in cannottiera ad accogliere il suo killer, un appuntamento molto informale dunque. Nella cucina dell'appartamento al secondo piano, poi, dove presumibilmente si ritiene sia avvenuto l'omicidio, sono stati ritrovati due bicchieri e una tazzina di caffè sul tavolo e una bottiglia di vino rotta. Quest'ultima è stata rinvenuta dietro un mobile, molto probabilmente finita a terra dopo una coltellazione e l'assassino ha cercato di nasconderla, anche nella fretta di pulire ed eliminare eventuali tracce che riconducessero a lui. Tracce che però sono rimaste, sono state infatti rinvenute diverse orme per terra oltre a sangue, per quasi tutto l'appartamento e anche sulle finestre della stanza da cucina. L'assassino, che avrebbe girato a lungo per la casa, stava sicuramente cercando qualcosa, molto probabilmente le chiavi dell'appartamento di sotto, dove poi ha portato il cadavere di De Luca. Gli inquirenti, avendo raccolto tutte queste tracce, sono fiduciosi sull'esito delle indagini. Ora le analisi sono al vaglio dei risti di Roma e solo loro potranno dare qualche risposta nel merito. Intanto, tra oggi e domani, dovrebbe esserci un nuovo sopralluogo da parte dei carabinieri del reparto operativo di Teramo. Mercoledì pomeriggio era stata rinvenuta una cassaforte digitale all'interno di un armadio, ma al suo interno sarebbero stati trovati solo pochi soldi, principalmente di origine sudamericana. La cassaforte era vecchia e in disuso, nessun segno di manomissione sarebbe stata trovata dagli inquirenti. Intanto continuano le edizioni di amici, parenti e di tutte le persone ritenute informate sui fatti nella caserma dei carabinieri. Nella prossima settimana si spera di avere qualche elemento utile dall'analisi dei tabulati telefonici. Si potrebbe infatti chiarire con certezza il giorno della morte, anche se gli inquirenti, secondo i primi riscontri, daterebbero la morte tra il 19 e il 20 maggio. Il telefono di De Luca, cui l'uomo non si separava mai neanche per andare in bagno, comunque non è stato trovato in casa. Il suo assassino, forse molto ingenuamente, per evitare di essere rintracciato, l'ha portato via con sé, non induendo che dall'esame dei tabulati dovrebbe venire comunque fuori la verità.